Risolviamo un circuito di tipo RL parallelo. Supponiamo di avere un generatore di valore efficace 10V, un resistore di valore 5 Ohm, di resistenza 5 Ohm, un'induttanza di 2 mAh alla frequenza F di 250 Hz. Questa è la frequenza dell'onda sinusoidale del generatore. Quindi ricordiamoci che 2 mAh equivale a 2 per 10 alla meno 3 Enri. Quindi adesso risolviamo il circuito con le ammettenze. Sappiamo che l'ammettenza del parallelo è data dalla somma delle ammettenze dei due rami, quindi G meno J B con L, dove abbiamo che G, sappiamo essere l'inverso della resistenza, quindi uguale a 1 diviso 5 uguale a 0,2 Siemens. Per quanto riguarda invece la suscettanza induttiva BL, sappiamo essere uguale a 1 fratto 2 pi greco F per L. sostituiamo i valori, quindi abbiamo 1 diviso 2 pi greco per 250 Hz per l'induttanza di 2 per 10 alla meno 3 Enri, quindi 2 milli Enri. Il risultato è 0,32 Siemens di suscettanza induttiva. L'ammettenza risulta essere pertanto 0,2 meno J 0,32 Siemens. Questa in forma algebrica, se trasformiamo in forma polare avremo modulo 0,2 radice quadrata della somma dei quadrati, quindi 0,2 al quadrato più 0,32 al quadrato tutto sotto radice e fase data dall'arco tangente di parte immaginaria che è meno 0,32 diviso parte reale. 0,2 se eseguiamo i calcoli, otteniamo un modulo pari a 0,38 Siemens con angolo caratteristico uguale a meno 58 gradi, angolo caratteristico dell'ammettenza. la possiamo rappresentare l'ammettenza sul piano di Gauss, quindi abbiamo parte reale e parte immaginaria, quindi abbiamo la conduttanza G 0,2 Siemens in questo punto, la suscettanza BL negativa meno 0,32 sull'asse immaginario negativo, l'intersezione delle due componenti rappresenta l'ammettenza Y a 20 angolo caratteristico uguale a meno 58 gradi. Quindi il modulo dell'ammettenza 0,38 Siemens, angolo caratteristico PSI uguale a meno 58 gradi. procediamo nell'analisi del circuito e determiniamo il valore della corrente I con la legge di Ohm generalizzata, quindi I uguale a Y per V ammettenza per tensione, quindi passiamo alle forme polari, 0,38 Siemens angolo meno 58 per l'ammettenza e tensione di valore efficace 10 e anche in questo caso scegliamo a piacere l'angolo della fase della tensione che non ci viene fornito e scegliamolo uguale a 90 gradi. a piacimento, quindi prodotto dei moduli, otteniamo 3,8 A, fase 32 gradi data dalla somma di 90 meno 58. Questa è la corrente I erogata dal generatore, se la rappresentiamo sul piano di Gauss abbiamo quindi questo diagramma vettoriale, abbiamo detto che la tensione del generatore V, della quale abbiamo tra i dati soltanto il valore efficace di 10 volt, possiamo quindi scegliere la fase a piacere, la scegliamo uguale a 90 gradi, quindi in questa posizione sul piano di Gauss, questa è la tensione V, quindi il modulo, la lunghezza di questo vettore è 10 gradi, l'angolo è 90 gradi, andiamo a rappresentare la corrente I, abbiamo un vettore di modulo 3,2 A con fase FI con I uguale a 32 gradi, quindi l'angolo di sfasamento tra tensione e corrente risulta essere uguale all'angolo caratteristico dell'ammettenza Y cambiato di segno, quindi meno 58 gradi angolo caratteristico dell'ammettenza diventa più 58 gradi come angolo di sfasamento fra tensione e corrente, ricordiamoci che in meno 58 gradi quindi l'angolo caratteristico dell'ammettenza cambiato di segno non è altro che l'angolo caratteristico dell'impedenza equivalente al parallelo di R ed L e quindi rispettiamo sempre il fatto che la tensione e la corrente in un'impedenza sono sfasate tra di loro di un angolo uguale all'angolo caratteristico dell'impedenza. Vediamo le due componenti della corrente I, quindi la corrente nel resistore IR in fase con la tensione, perché è data dalla conduttanza G che è a fase 0, essendo reale, moltiplicata per la tensione V che abbiamo detto essere 10V fase 90 gradi, quindi otteniamo una corrente di 2A fase 90 gradi, quindi la corrente IR è in fase con la tensione V, come sempre succede in un resistore. Nell'induttore L abbiamo meno JBL che è l'ammettenza per la tensione ai capi di LV, quindi uguale a meno J per 0,32 Siemens di suscettanza induttiva, moltiplicata per la tensione V, quindi sviluppando abbiamo che otteniamo 0,32 Siemens con angolo meno 90 gradi, moltiplicato per la tensione 10V angolo 90 gradi in questo caso, quindi il risultato prodotto dei moduli 3,2A fase data dalla somma delle fasi 90 meno 90 uguale 0 gradi, quindi la corrente IL giacerà sull'asse dei reali, quindi abbiamo la corrente IR in fase con V e la rappresentiamo quindi col tratteggio lungo l'asse degli immaginari, la corrente IL in fase 0, quindi orizzontale, la composizione dei due vettori IL e IR, quindi la loro somma vettoriale, deve essere uguale alla corrente I, questo me lo dice l'equazione di Kirchhoff al nodo e ottengo appunto che la corrente IR è a 90 gradi, la corrente IL è a 0 gradi e la loro somma vettoriale è uguale a I.